Il serpente certamente non è un animale simpatico, è sempre associato col male, anche nella rivelazione. Il serpente è proprio l'animale che usa il diavolo per indurre al peccato. Nell'Apocalissi lo si chiama al diavolo il serpente antico, quello che dall'inizio morde, avelena, distrugge, uccide. Da questo non può uscire. Se vuoi uscire come uno che propone cose belle, queste sono fantasie. Noi le crediamo e così pecchiamo. E questo che è successo al popolo di Israele. Non sopportò il viaggio. Era stanco. E il popolo disse contro Dio e contro Mosè. E' sempre la stessa musica, no? Perché ci avete fatto salire dall'Egitto? Per farci morire in questo deserto? Perché non c'è né pane né acqua? E siamo nauseati di questo cibo così leggero, il manà. E l'immaginazione, l'abbiamo letto, i giorni scorsi, va sempre all'Egitto, no? Ma lì stavamo bene, mangiavamo bene. E anche sembra che il Signore non sopportò il popolo in questo momento. E si arrabbiò. L'ira di Dio, no? Si fa vedere dalle volte. E allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti. I quali mordevano la gente e moriva. Un gran numero di israelite morì. In quel momento il serpente è sempre l'immagine del male, no? Il popolo vede nel serpente il peccato. Vede nel serpente quello che ha fatto il male. E venne da Mosè e disse abbiamo peccato. Perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Si pentisce. Questa è la storia nel deserto. Mosè pregò per il popolo. E il Signore disse a Mosè fate un serpente e mettilo sopra un'asta. Di metallo, no? Chiunque sarà stato morso lo guarderà, resterà in vita. A me viene da pensare, ma questa non è un'idolatria. C'è il serpente lì, un idolo, che mi dà la salute? Non si capisce. Logicamente non si capisce. Perché questo è una profezia. Questo è un annuncio di quello che accadrà. E che abbiamo sentito anche come profezia vicina nel Vangelo. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso. Gesù è innalzato sulla croce. Mosè fa un serpente e l'inalza. Gesù sarà innalzato come il serpente per dare la salvezza. Ma il nocciolo della profezia è proprio che Gesù si è fatto peccato per noi. Non ha peccato, si ha fatto peccato. Come dice San Pietro, nella sua lettera, portò i nostri peccati su di sé. E quando noi guardiamo il Procifisso pensiamo Signore che soffre tutto quello è bello. Ma ci fermiamo prima di arrivare al centro di quella verità. In questo momento tu sembri il più grande peccatore. Ti sei fatto peccato. Appresso su di sé tutti i nostri peccati. Si è anientato fino adesso. La croce è vera, è un supplizio. C'è la vendetta dei dottori della legge, di quello che non volevano Gesù. Tutto questo è vero. Ma la verità che viene da Dio è che Lui è venuto al mondo per prendere i nostri peccati su di sé. Al punto di farsi peccato. Tutto peccato. I nostri peccati sono lì. dobbiamo abituarci a guardare il crocifisso su questa luce che è la più vera e la luce della redenzione. in Gesù fatto peccato vediamo la sconfitta totale di Cristo. non fa finta di morire non fa finta di non soffrire solo abbandonato padre perché mi hai abbandonato? Un serpente io sono alzato come un serpente come quello che è tutto peccato. Non è facile capire questo e se pensiamo mai arriveremo a una conclusione soltanto contemplare pregare e ringraziare.